una fotografia che peraltro, mentre ce ne sono tante, veramente tante, io continuo a non stancarmi nel vedere le tante fotografie con cui si può fotografare questa città, non dal punto di vista convenzionale, senza annullatore, la Porta Vecchia, ci sono dei temi ricorrenti, quella vista di monopoli dal lato sud che guarda tra il mare e l'Una Cinta, ce ne sono poi alcuni, i monopoli veramente stradospetti. Ci ero in giro per le zone servizio giornalista e avevo subito l'idea di immortalare quella che per noi per eccellenza è la più grande piazza che abbiamo e mi sono beccato sul terrazzino adiacente al Borgo e ho immortalato questa immagine che ha il Borgo visto proprio frontalmente, si può vedere anche la statua ben vista, la fontana e questa è stata una grande dedicata e raramente come ha detto anche riportisce la nostra titolazione, quindi sicuramente sarà un bel ricordo per chi passerà in queste stanze e avverrà un evento storico sicuramente. Io magari mi sono per un tanto di fare una stata, mi vedete, una piccola di questa perché credo che sia un appunto certamente canale.